eccoci abbiamo iniziato ciao michela ciao le magnifiche 3 ciao ciao siamo qui riuniti siamo qui per anche no siamo qui per michela michela raccontaci punti della tua sessione allora io ho fatto delle aggiuntive e in quanto mi sono capitate altre cose dopo che io l'ho scritte ora la prima la prima causa esoterica perché sei stata buttata perché sono stata adottata giusto anche abbandonata e poi adottata perché immagino abbandonata non lo sappiamo le ricerche dicono che veramente da parte di mia madre c'è stato un abbandono o qualcosa del genere come essere venduta invece da parte di mio padre non voleva questa cosa hai fatto delle ricerche ti sei rivolta delle associazioni noi verifichiamo in eterico con tre visioni diverse una via perché comunque bisogna di capire che avete questa cosa importante alcuni frega niente a te invece è molto importante è molto importante e quindi direi l'istituzione e non aver potuto scegliere i miei orientamenti scolastici e lavorativi come per esempio l'architettura o l'arte e i miei genitori adottivi volevano che io facessi l'infermiera perché magari potevo su potevo incontrare un marito dottore quindi benestante quindi una buona sistemazione comunque sia era un posto statale in cui io comunque avrei usufruito di una buona pensione quindi pensare per il futuro facendo questo lavoro facendo appunto lo studio dell'infermiera e non altro che magari però chi ha scelto architettura quindi alla fine se i tuoi genitori adottivi volevano l'infermiera io non ho fatto gli studi di infermiera e sono andata a lavorare perché o era quello o era niente non ho capito per l'architettura come si colloca a chi come 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 scuola volevo fare o le rifare di dove non te l'hanno permesso o altro ok inizio caso esoterica il punto punto 2 la perdita di memoria dai 0 5 anni quindi da quando sono stata a casa mia diciamo in brasile incubi notturni se vuoi io ti li posso anche elencare gli incubi io li facevo ogni notte infatti la notte dormivo pochissimo praticamente una persona una sagoma nera mi inseguiva su l'ambiente si cambiava in base a dove io vivevo quando stavo in brasile era che ne so l'ambito scolastico oppure se era in italia dove dove abitavo e questa persona questa sagoma mi voleva prendere poi l'incubo finiva lì non c'era una conclusione poi c'è sempre il discorso di fuggire fuggivo per esempio in una in un mezzo automobilistico e a un certo punto esco fuori dal finestrino accadevo dentro sotto un borrone e anche qui non c'era un continuo finisce lì mentre io volavo poi di fuggire in mezzo a una foresta mezzo a un dei poliziotto dei dei militari con il fucile che mi correvano dietro poi questo anche questo più che altro in italia quando già ero in italia che io ero sempre dentro un'abitazione in cui a un certo punto io mi affaccio a una finestra e dietro la casa c'è l'acqua che pian piano aumenta 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 fino a coprire le finestre e io con la mano tenevo la finestra perché non facessi entrare l'acqua dentro casa e e poi sogniamo sempre degli animali come l'orso e il leone che gironsolava intorno casa mia qui in italia che volevano prendermi quindi volevano forzare il portone la o il portone del garage che volevano prendermi sempre una questione di di fuggire di nascondersi il tema questo ok poi questo secondo come si un appartenenza un senso di non appartenenza quindi io non riesco a trovare di sentirmi appartenere a nessun luogo e nessun plan di una famiglia di persone cose così case di legno in grande interesse sin da piccola costruire a lavorare il legno a costruire case di legno anche questo si rispecchia con il discorso architettura e mi piace piantare semi tuttora li pianto di alberi soprattutto e poi aggiungo anche qui che io dall'anno scorso sono andate in menopausa così io ne ho 44 quindi a 43 dimostra che 10 meno grazie meno pausa mazza sì infatti mi ha preso un po così allora il punto 3 discorso a livello di salute quindi miopia carie e queste due cose le aggiungo che i miei genitori adottivi non è non si sono mai interessati a farmi fare le visite di prevenzione quindi porta io gli occhiali li ho messi perché dovevo prendere la patente quindi a 18 anni quindi forza maggiore non perché è giusto cari e denti lo stesso premesso che si posso chiederti da quando sei nella tua famiglia nuova insomma da quanti anni io avevo 8 anni quindi 8 anni e in italia anche perché per brasilia si è passata dal brasilio all'italia con l'adozione e scusa una domanda che non mi vento in mente adesso la questione adozione è stata gestita da un ente laico o religioso anche anche religioso il prete della del mio paese ok e mentre l'italia un ente laico ora di mezzo alla chiesa anche in italia allora io dove allora no forse mi sono confusa allora dove stavo in brasile l'istituto era sì come detto tu erano gesti era gestito da monache ok ok invece l'adozione è per fare in modo che questi genitori perché non avevano tutte le carte in regola per fare un'adozione diciamo che un'adozione è illegale anche perché hanno fatto pagamento a nero e quindi hanno avuto le spinte anche a livello di del prese del paese diciamo che tutti hanno messo la loro stampetta in modo che si facesse questa adozione prete italiano si si rilassano le suore quindi è tutto religioso eppure poco ortodosso perché insomma hanno pagato pagato in nero e non c'erano i documenti corretti bene bravi ok cola miopia carie io volevo dire carie che martedì ho fatto una visita medica dal dentista di cui ho parecchie carie ai denti purtroppo per appunto queste mancanze da parte sia della famiglia adottiva sia anche dell'ex marito e ho detto va bene la compagnia detto c'è andiamo lo stesso perché comunque se continui così va a finire che rovini tutti i denti ma poi e quindi cosa prima ex marito tuo ok mi ha scusato adesso è una compagna adesso una compagna sì e quindi ho preso un appuntamento che inizierò a fare questa cosa anche se non so come ero poi ero perché ci vorranno pareti i soldini quindi ho aggiunto questo poi difficoltà respiratorie praticamente io ho sempre avuto un nodo alla gola e faccio difficoltà a respirare in presenza di fumo quindi può essere sigarette qualcuno che accende il fuoco qualsiasi cosa anche lo scarico delle macchine qualsiasi cosa che sia mi da difficoltà a respirare abbastanza importante e quindi aggiungo anche il mal di gola mal di gola ce l'ho anche perché se io mangio farinacei io perché sono stata anche vegana per dieci anni e mi ha aiutato molto in questa cosa nella respirazione nel catarro io ho avuto la sinusite cronica a vita poi cambiando alimentazione la cosa si è placata però se io mi metto a mangiare che ne sono una pizza il pane la pasta cose così io la mattina sto sempre in bagno a scaricare il muco e quindi ho costantemente questo mal di gola e chi l'ha un po più riassunta i punti ok da quando sono piccolo il bernocco nel lato sinistro che a certo punto era andato via perché i miei genitori adottivi mi hanno portata da una signora che con le mani riusciva a guarire le persone e il bernocco era andato via invece poi da qualche anno è ritornato un po più piccolo ma c'è e mi fa male se lo tocco capelli unghie cioè cosa sono deboli sì allora io ho avuto tre figli la terza figlia l'ho allattata per sei anni e mezzo un po tantino e durante questa fase laureata e lei era ancora sul passeggino tipo a me piace fare questa battuta quando vedo questi bambini giganteschi sul passegggino dico vabbè fa poco c'era la laurea portatelo ancora sul passegggino e quindi da questo percorso qua ho avuto sempre anche tuttora che ho smesso unghie rovinate adesso le unghie sono andate a posto però anche i capelli che si spezzano molto facilmente ok smagliature eruzione cutanee viso più o meno detto già mi sembra difficoltà a piangere a base autostima blocco sessuale con la tua compagna sì ma anche prima sempre prima e non stare nel corpo che significa come se cioè io sento il mio corpo ma è come se io stessi in ipnosi e non stessi qua non cioè io l'ho non sono presente non sono presente fisicamente cioè fisicamente il corpo c'è ma io a volte no no non me lo sento non o non mi piace starci di roba così 44 come no ti vedi dall'esterno dico nel senso riesce a vederti dall'esterno come si riuscivano molto tempo fa ora ok quarto punto no lavoro cioè non lavori sì allora io attualmente faccio l'animatrice di feste però quando stavo quando ero sposata con il mio ex marito lui per gelosia non non voleva che lavorassi e io ho accettato purtroppo poi comunque ho cercato sempre comunque di i ragazzi quando andavano a scuola quindi avevo mezza giornata libera voglio lavoro part time ma anche e e quindi niente non sono mai riuscita a trovarne uno nelle marche qua in in abruzzo a pescara sempre lavori o senza senza contratto come contratto sicuri contratto esatto oppure come per esempio adesso che ho fatto la stagione estiva ho fatto la spiaggista a breve termine e comunque sono sempre lavori che mi portano a fare sempre i lavori di pulizia che a me non piace e quindi proprio velocità auto e auto trecide incidenti la famosa patente con gli occhiali guidi ancora sì sì io guido allora incidenti non sono stati causati da me allora il primo incidente è stato di base alle ricerche che io ho fatto con il mio padre che io non ho forse in base a quel sogno che ho detto prima che volavo fuori da cinestrino ma io non ricordo poi il secondo incidente l'ho avuto con il mio ex marito mentre dovevo andare da un dentista poi non sono più andato e il terzo con la mia attuale compagna siamo stati tamponati da un camion e questo incidente ultimo ci ha causato parecchi problemi a livello economico il tamponato ha sempre ragione però sì sì no abbiamo ragione proprio la persona che ci ha fatto le pratiche ci ha ovviamente ci vuole imbrogliare adesso siamo sotto le mani di un avvocato che per fortuna ci sta aggiustando le cose ok sei lenta e hai fatto un sacco di traslochi giusto sì sì ok diamo veloci sogni per monitori fammi solo un esempio allora uno è muore una vicina e io durante la notte me la sogno e il giorno dopo vengo a sapere che questa signora è quello da mancare oppure sempre un'altra vicina ha avuto un incidente la figlia io invece sogno cioè no ha avuto l'incidente lei ma io sogno la figlia che ha delle cicatrici nel viso e vengo il giorno dopo a sapere che la mamma ha avuto un incidente oppure cioè robe così bene c'è lo dico a sabrina perché prima non l'hai sentito una probabile gemella etero zigote di michela trovata con questa associazione che lei ha pagato più riprese che tra l'altro ultimamente l'ha pagata e non si sono più fatti vivi questa gemella si è fatta viva in skype abbiamo detto nella registrazione no mi sembrano fatta viva in skype hanno parlato in skype poi è scomparsa vabbè poi ha saputo che è caduta e si è fatta male e poi è scomparsa sono scomparsi che questi qua dell'associazione quando si sono presi comunque ancora delle rate per dei lavori di ricerca che non sono stati fatti io direi che possiamo iniziare c'è qualche disincarnato michela che vuoi chiamare appunto mio padre quello biologico che ma che è mancato beh quello biologico secondo l'associazione sì appunto infatti volevo sapere se è o non è poi questo padre l'hai poi sentito il nome basta o c'è parlato gli hai scritto ti ha confermato intendi dopo una questa ricerca si è buttato lì così se nell'ipotesi che questa situazione sono dei truffatori e si inventano con dei mezzi attori tipo la gemella una storia prendono il nome di uno e una foto su internet ti dicono questo tuo padre dell'ipotesi è dico io è così o tu comunque hai parlato con questo uomo no con il mio padre no perché appunto mi hanno detto che è morto ho parlato solo con sempre tramite skype solo con la gemella basta adesso la mia compagna ha parlato con mia madre con altre persone con loro il fratello di mio padre dicono che sono tre fratelli uno è morto uno è vivo e sta qui in italia e il mio padre che in teoria dovrebbe essere morto mi sentite sì sì io sì ok ok no dicevo posso farti una domanda ma dei ricordi prima di venire in italia no io mi ricordo io sono stata messa in in istituto a cinque anni poi ci sono stata per tre anni e poi sono stata adottata quindi a otto anni quindi io mi ricordo questi tre anni in istituto sì ma da cinque anni a zero anni come ho detto prima sopra al secondo punto non ricordo nulla ok però mi ricordo il cognome l'ultimo punto aggiungo anche il fatto che la mia compagna litighiamo sempre diciamo sempre litigare però ogni cosa non ripetiamolo michela il cognome lo censuro nella registrazione ok benvenuti per la sessione di michela connecchetevi ciao a michela abbiamo sentito prima i suoi punti vi accompagno contando velocemente da 5 a 1 5 4 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 9 9 5 6 6 7 7 7 8 7 7 8 9 9 9 9 9 10 9 9 10 7 9 a lei come per essere protetta se non volesse che entrasse o le cose verso di lei la vedo bambina capelli così scuri neri con le treccine due treccine e a un cesto in paia dove dentro ci sono dei delle scatolette di fiammiferi a vedo così la reta e dice mi dovete aiutare a liberarmi tutte queste scatoline dice cosa rappresentano le scatoline i patti contratti ok ci dà l'autorizzazione quindi da dietro la montagna ok andiamo subito al dunque michele è stata adottata dai punti l'avete sentiti quella gemella eterozigote è vera io non la prima che lei la racconta non la vedi ok è un erro è un errore o un'attrice no è lei non lo sa cioè lei questa persona io vedo che questa persona e convince crede di esserlo è una storia raccontato io vedo questo lo stesso anche voi elena monica una finzione a me mi è venuta questa parola anche a me quindi è l'associazione a cui si è rivolta michela che ha fatto la finzione ha ingannato michela e questa presunta ok questa associazione l'ha messa in contatto con un presunto padre è il padre ha morto in ragione io non lo vedo una funzione viene come se è tutto finto tutto spiegano la scomparsa della dei contatti della gemella e il fatto che questi qua non rispondono più va da parte i genitori biologici di michela sono vivi sì sì e anche vedo tutti e due chiamiamoli in eterico nel cinema li invitiamo lì si mettono seduti sulle due sedie davanti come il cinema con questo schermo dove aspettano che viene proiettato la sessione e loro si mettono un accanto all'altro se tu di lei ok facciamo un gioco proviamoci il nome di lei e il nome di lui non il cognome ovviamente solo il nome asmira passamira smira metti qualcosa di simile lo volete correggere perfezionare visto veniva tipo al g al gina una roba del genere comunque c'erano la iniziare la finale e lei mentre c'era già visto prima che dicesse sabrina a me il padre mi è venuto giacob non so vabbè giusto per avere qualche cosa perché insomma immagino è stato d'animo di michela va bene michela vibrazione 17 miliardi monica un miliardo un miliardo percentuale di consapevolezza sabrina 135 75 120 psp se per lo stesso ordine pp e un 67 p monica 43 pf e la 40 la pf ok vite precedenti mi sa tanto 1216 1986 cervello utilizzato 3,7 8,6 8,3 ok a volte avete delle scale diverse a volte no sono tanti i fattori prendiamone atto ok causa esoterica della miopia io vedo come se quello che mentre lo dicevi ho visto fosse un suo modo di reazione per non vedere per accettare quello che è stato raccontato detto e per non affrontare alcune situazioni della sua vita passata che potrebbero non piacergli quindi preferisce non vedere una scelta personale quindi automaticamente il suo corpo c'è la sua anima che comunica questa preferenza e quindi a una ribalto sul discorso corpo quindi la mio p quindi ci sono impianti è il corpo e a lei anche io ho visto come se lei ha messo tipo una tenda davanti carriera si è vista proprio questo ma ieri ha iniziato qui ok le carie vedo come se avessero dovuto toglierli come si devono togliergli i denti esotericamente per cercare di farla mangiare il meno possibile come se dovesse come se dovessero bloccarli l'apporto di energia per alzarsi le vibrazioni e come se attraverso i denti non non avendo i denti reprire l'energia sufficio vedo monica che fa sì con la testa se anche la stessa cosa se sovrima solo dimmi se vedi qualcosa in più o di diverso sì sul discorso di quello che dice alena il piovio la prima cosa cosa percepito quando hai detto denti parenti mi è venuto subito cioè come se fosse così no è come se fosse una mancanza in l'associazione denti come detto denti associato parenti è come se avesse una mancanza come se i denti non lo so la prima volta che lo vedo non so se è come se i denti fossero associati a un discorso parentale quindi la mancanza c'è il dente marcio e come non avere una famiglia come posso dire è una risonanza energetica associata nella mente collettiva ed è questo ok troviamo un attimo le cause tutte le che vediamo i le interferenze eteriche partendo dagli dl ne vedete se sì quanti ne vedo 5 già non da prima mentre parlava di cui in particolare 12 che le circolano all'interno tra il petto e lo stomaco che le bloccano insomma un po energeticamente respiro e la fame io quattro ne vede tre dentro e ora che gira fuori ed è una entità eteriche ma allora vedo facciamo falconiforme poi c'è una mantide e poi c'è un soldato militare sopra vedo zeus e odino che come se come se zeus lo vedo sopra il militare alla mantide e odino sopra falconiforme è come però se scambiassero le informazioni a seconda di quello che ricevono interferendo michela al secondo universo e no io vedo anche io ok qualcuno come monica e sabrina vuole aggiungere correggere qualcosa che avesse sapercire quello che resta renavesse il corvo dovesse il amanti del corvo il militare ho anche io però sopra io vedo anche un leone sopra il corvo vedo quello che ha detto elena monica il conferma quindi comunque vedo dei militari il falco l'ho visto già anche quando l'ha detto al l'ho visto già e però dietro dietro come se si nascondesse vedo anche un leone sopra il corpo ok entità mentali io vedo un fumo nero perché vedo così il quarto terzo livello tra il terzo e quarto livello anche terzo e quarto sabrina terzo compito del terzo e compito del quarto allora è sempre lui che sta tra il terzo e il quarto livello nel senso della seconda della della vibrazione della situazione emotiva di lei lui si sposta quindi terzo e più basso quindi meno potente quando lei diventa più forte lui deve alzarsi di livello in questo senso lo vedo tra il terzo e quarto perché lei comunque è una combattiva non è una persona che non è una persona remissiva nonostante alcune situazioni della sua vita io la vedo comunque che combatte c'è una un'anima che non si arrende quindi comunque l'età del filo da torcere in questo senso questo essere qui il compito è quella di e quello di confonderla tantissimo di tener delle radici che non esistono nel suo continuo continuare a cercare radici che in realtà poi alla fine abbiamo compreso che non puoi anche comprenderle ma non servono le radici di questa vita la bloccano questa ricerca che lei fa e questo come posso dire loop di situazioni che è comprensibile ovviamente qui ma la blocca nella sua evoluzione animica non posso dire quindi la tengono ferma quindi questo continuo la che ne so la sorella la che questa cosa finta che le viene data questa comunicazione quindi la tengono ferma mentre lei potrebbe ha le potenzialità per fare ben altro comunque questo il suo ma quindi è una che tra il terzo e il quarto o un terzo e un quarto ne vedo una che si muove tra il terzo e quarto a seconda della della dello stato insettato e lo stato che ha d'animo io e monica vedo molta confusione e rabbia rabbia per non riuscire a chiarire e capire quello che vuole vedere e sapere sulle sue origini su quello che c'è dalla sui suoi parenti vuole sapere io vedo che lei vuole sapere vuole per una sua cosa personale per stare poi bene e le dentro di sé elena entità mentali ho visto entità mentali mi era apparso terzo e quarto livello vedo che agisce con due impianti mentali sono tipo due strisce qua sopra così a livello proprio appena sotto il cranio tra il cranio e il cervello due strisce qua ok mi manda bruciapelo è nata a rio in brasilia o da un'altra parte avevo già visto prima quando esponeva i punti che l'ho vista in un picco in una piccola dopo una piccola lato villaggio si tipo vicino a di favelas cosa così vicino a rio di genero fuori o forse se alla periferia fuori scenario domanda la bruciapelo è stata abbandonata venduta o altro venduto venduto aveva già visto prima venduta io vedo che aveva anche altri fratelli avesse prima per una persona non riuscivano a tenere tutti questi figli non riuscivano a sfamarli l'hanno comprata le sue racce che troviamo la mia vedo che i genitori l'hanno portata la per tenerla un periodo di tempo finché loro riuscivano poi a un attimino a risolvere se ma poi non ce l'hanno fatta a riprendersela e ha avuto dei soldi sì però come se c'è nel senso di quello che vedo io da qui è come se loro volevano riprendere se la stessa sì vedo che le sole le sole fanno parte di anche una cena non lavorano da sole come se collaborassero con altre associazioni mi viene una domandaccia ma queste suore o in generale questi che fanno questo tipo di adozioni sono legati anche al deep state e a un'altra destinazione d'uso dei bambini si è veniva quando le parlava infatti anche una parte di quei bambini che venivano portati lì in questo sessore una parte veniva usata per sacrifici e altri venivano invece smaltiti e dandoli in adozione quindi le andate bene due volte sia perché insomma non ha fatto una vita di miseria nonostante i genitori adottivi non è che fossero proprio dei geni sia perché non è finita su un tavolaccio puntini puntini le sue ore lo sanno se se mi amore aumentato per le suore da questo da oggi e il prete italiano lo sa e anche lui dentro queste cose io in italia si però nel senso la cosa in questa situazione più sporca di là che in italia come potete dire se se si è chiesa e veramente voleva caso se sto castro a non di considerare in questo caso è come nel suo caso vede questa bimba è veramente abbia l'abbia aiutata per essere la salvata se numero di bambini sacrificati nel 2021 che non ancora concluso in brasile e in italia ma elena quello che ti arriva se 27.000 5.600 sabrina in brasile ti manca solo 95 ok metteteli tutti in uno stadio e fate un'idea della carneficina ok causa esoterica delle difficoltà respiratorie se vedete degli impianti li vediamo era già vista avevo già vista prima quando esponeva punto l'ho vista in una vita passata dove era di quelle streghe tipo poteva essere assale dove veniva bruciata roba quindi moriva tra 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 il fuoco il fumo soffocata monica che fai una brutta faccia anche io l'ho vista mentre faceva punti che era e non avete a passato e resta una strega se sabrina che non ti vedo tra un cuscino leopardato è una coperta gigante blu io sì anche io questo cioè quando quando elena parlava ho visto il fuoco però poi l'ho vista come una una come posso dire uno specchio emozionale quindi tristezza perché il comunque i polmoni e respiro il blocco del respiro è già tutto è un ricordo dell'anima che si trasforma qui nella terza dimensione come tristezza quindi la forte tristezza si si come posso dire sfocia nel comunica con noi nella nella difficoltà ai polmoni respirare in un blocco di respiro velocemente gola se più o meno la stessa cosa ditemelo se no caso tutelica dei problemi la gola si vorrebbe urlare quella cosa di ok il bernoccolo che viene tolto da una che toglie bernoccoli e poi torna in parte da action con sia come se avesse una la spina una spina lì c'è la spina dove collega noi il tubo quando fanno l'accia e quando è calato ma hanno fatto meno d'action quando non è calato il bernoccoli quasi scomparso se quasi ma poi alla fine a furia di charles è tornato nel senso e lo facevano come se riusciva a contrastarla in quel momento come se riusciva a chiudere la spina e poi loro c'è l'abduction la riaprivano la chiudeva e la riaprivano se alla fine è rimasta aperta a di là delle tre gravi danze unghie e cappelli deboli e smagliature la vedo come se la vedo come se dovesse tirarsi su sopra come se la vedo in un burrone e alla fine riesce al pelo a tenersi a salvarsi e quindi come se fosse tutta la vedo bagnata tutta trasan tutta come si dice sporca di fango quasi sì che al pelo riesce a tenersi sulla cima del del burrone e riesce a salvarsi al pelo come se si fosse tenuta per le unghie una vita precedente questa se se monica io invece l'ho visto collegato sempre alle dacson a delle punture che gli fanno che ha dei liquidi che iniettano nel corpo vedo che un indebolimento proprio del cuoio capelluto e delle unghie fragili e la pelle più secca e una volta che da prurito e vedo così sabri come se fosse sì quello che hanno detto loro in più aggiungerei proprio come un il corpo è a livello esoterico il fine che paga quindi è come se tutto tutto questo discorso tutto questo essere a livello emotivo di questi sbalzi insomma di tutto quello che abbiamo detto fino adesso in qualche modo questa energia questa rabbia questa tristezza tutto questo deve sfogare perché siamo sempre qui nella terza dimensione quindi basse vibrazioni e tutto questo discorso emotivo sfocia in cioè come se l'anima comunica con il corpo per fartelo capire fare quindi ti dice ti fa vedere i capelli così ti fa vedere la pelle che magari è io vedo proprio una c'è la circolazione del sangue che non va come se fosse bloccata quindi come se ci fossero anche io vedo anche pesantezza sulle gambe e quindi è proprio come se fosse una scelta del c'è una conseguenza energetica ma scelta dell'anima per fartelo comprendere che c'è qualcosa che dovresti fare eruzione cutanee sul viso la stessa cosa quello che ha detto prima elena ok meno pausa a 44 anni io vedo che gliel'hanno provocata se è sempre dalla tax tra poco parleremo al corpo che può riprendere io sono nato che può riprendere bassa memoria e ci aggiungo perdita dalla memoria dagli 0 a 5 anni si ricorda niente allora io avevo visto prima da 0 a 5 anni che hanno nel posto in cui erano fatto come si facessero degli esperimenti anche con questi bimbi e poi li hanno cancellato la memoria come se avessero fossero riusciti un po cancellargli la memoria invece invece adesso ha un calo di memoria sempre per la tax perché durante i sogni quando lei vede qualcosa inizia a vedere qualcosa che poi tutto da un colpo si interrompe il sogno troppo gli bloccano la memoria vedo che in quel momento lì lei quasi si sveglia durante le abduction e per non farle ricordare gliela bloccano quanti sono le audaction a elena circa 20 al mese ma però sabrina allora quello che confermo anche io vedi vedere quello che dice lena 0 a 5 anni comunque ci sono delle qualcosa che li fanno questi bimbi ci vedo questo io già da prima vedevo come una questo passaggio una grotta una cosa così ma è verico nel fisico a fisica nel fisico se come se la fanno delle erano così non so come dirti io vedo come se li mettono in ipnosi come se li tutti quanti vedo questi tutti questi bambini come se vengono ipnotizzati non so come dirti le macchine insomma in queste favela se ne fanno ovviamente di cotte di crude con basta fa vedere un po di soldi che sono senza giudicare ovviamente ma ci sono talmente tanti tante persone disperate tanti bambini che strana questa matrix proprio strana ok difficoltà a piangere lei ha avuto una vita dove comunque io vedo come se lei comunque conta su se stessa nel senso nonostante i suoi momenti di insicurezza però dei motivi a una persona che sa che su di lei cioè lei e quindi comunque pianto per lei è come se fosse un abbassamento di forza quindi è come se non si concede anche se in realtà il contrario aggiungerei magari è come se lei dicesse a se stessa non posso permettermi di essere debole associa il pianto alla di una debolezza perché comunque in questa vita lei ha sempre comunque c'è sempre chiusa se io vedo proprio dei momenti in cui lei si chiude e rivede la sua storia cerca di fare pace cerca di sa che comunque c'è lei e basta perché non la famiglia in cui lei sta non la riconosce lei si vede lei la sua famiglia lei e quindi è come accolpianto un momento di debolezza quando io comunque mi permetto di dire che invece sarebbe piangere non è una debolezza ma è una forza ammettere di provare delle emozioni cioè provare delle emozioni e ci vuole grande coraggio quindi non è una debolezza al contrario però lei non vede così monica io vedo che quando era in questo le fanno trofio che se ne vedevano che i bambini piangevano le picchiavano e dicevano che non dovevano piangere e davano e schiaffone in faccia anche tu elena vedevi questa cosa se bello suoi visioni due visioni diverse due tagli diversi molto molto bello molto interessante bassa autostima e blocco sessuale ma se lei non avesse avuto modo di essere come posso dire dedicarsi a esplorare alcuni alcune cose a livello sessuale della sua sessualità perché la sua mente la sua emotività non occupa di a pensare altro quindi lei ne ha quasi paura anche per determinate cose che secondo me per quello che vedo vedeva dai 0 a 5 anni però non se lo ricorda a livello inconscio io vedevo 0 5 anni ha visto tante cose e dai 5 agli 8 vedo come se quando era nell'orfanotrofio loro venivano lavati tutti assieme tutti nudi con quest'acqua fredda con questa tutti in queste questi bagni dove li mettevano tutti assieme e quindi è come se esporre il suo corpo o comunque avere a che fare completamente col suo corpo sia per lei sia sporco sia non la fa sentire a suo agio non la fa sentire mi ricollego anche mi è venuto che si collega anche il fatto che lei non si sente nel suo corpo se che come se lo rifiutasse sia che se la stessa cosa a me è venuta è sporco sì 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 come se il suo corpo così la infastidisce non non lo apprezza non si sente bella non si sente appagata quando si vede come se non quasi non prova emozioni non ma sento che è quasi fredda rimane per tutto quello che io è successo lì però è per tutto quello che ha subito prima di andare avanti facciamo una considerazione 100 1200 1300 facendo una media vite questa è una di quelle esiste una vita di michela in cui tutto quello che non ha avuto in questa di genitori biologici una famiglia autostima alta esiste la vita che in cui ha avuto tutto questo se non è arrivata chiara e tonda la vedo sempre bimba femmina la vedo in questa casa una villa abbastanza grande con tanto terreno un prato enorme dove lei giocava felice vedo c'è anche un fratellino più piccolo e vedo questa famiglia dove i genitori si volevano veramente tanto bene che gli hanno accudito lei e suo fratello con tanto amore vedo la vedo proprio felice li vedo che poi non so perché non era direi che ha fatto tipo le scuole corrispondenti all'università di economia commercio non c'era penso fossero scuole superiori non lo so però la vedo che poi è molto contente quello che voleva fare e che poi diventa la direttrice della dell'azienda di famiglia e fa questa parte economica quindi che poi dice l'inghilterra monica io invece la vedo come un ragazzo sempre in inghilterra viene è come se figlio di un duca vive in questa grande casa che sembra quasi un castello sembra va a cavallo altri un altro fratello un'altra sorella e di lui è contento e contento perché è sereno viene questa parola e sereno è il padre anche se aveva combinato matrimonio lui parla al padre decide di affrontare il padre di lino io non amo questa donna che tu vuoi e farmi sposare ma lui la era amava un uomo amava un altro ragazzo amava il padre non dall'inizio non l'ha accettato è un pochettino ripudiato con lui lì era forte comunque anche se padre un pochettino non voleva però alla fine lui aveva un carattere talmente forte un carattere talmente determinato che alla fine il padre ha ceduto diciamo benedetto la loro unione vera felice era così sabrina la migliore vita che ha avuto che vedi tu quella che mentre le alena parlava la vista niquilterra anche io e ho visto questa bimba con in questo palazzo e l'ho visto come un palazzo e aveva un vestito giallo mentre alena parlava vedevo proprio lei questa bambina bionda con capelli lunghi con un vestito giallo la vedo intorno al 1500 rinascimento vedo quel periodo lì ok la domanda era un po trabocchetto secondo me la vita migliore è questa perché la famiglia non è così importante perché michela riesce a vedere la visa avere la visione di tutte le sue vite riesce ad avere l'occasione l'opportunità di prendere consapevolezza del tutto tutto quello che le è successo come pochi hanno l'occasione la fortuna di fare in tutte le proprie esistenze perché lo ricordiamo chi riesce a sottoporsi a una ipnosi di questo tipo con questo livello di qualità e con questo livello di totale pulizia sono quattro gatti tutto sale quindi secondo me vedere come questa la vita sfortunata delle favela dell'adozione a è riduttivo è molto umano invece con una visione più ampia questa è la vita principale è la vita migliore però abbiamo dimostrato in qualche modo che michel ha fatto delle esperienze anche di agiatezza di decisione di scelte che presa ha preso delle scelte che voleva appunto prendere come questa vita non ha potuto fare le avrebbe voluto per esempio studiare architettura per lei era destinata la carriera di infermiera lei si è opposta ed è andata a lavorare cause sottica di questi genitori adottivi che non hanno le caratteristiche per adottarla ma la tutta lo stesso ecco una scelta sua nel senso è comunque la in questa questa linea temporale in questa vita in questo quello che ha scelto qui doveva fare aveva già deciso di fare un determinato tipo di esperienze quindi è chiaro che non poteva scegliere la vita cioè la famiglia del mulino bianco perché non gli avrebbe permesso di provare le emozioni le esperienze che ha fatto per fare una crescita quindi a in realtà una scelta altrimenti avrebbe fatto un altro tipo di vita e avrebbe fatto un altro tipo di percorso monica elena il contratto non ha scritto lei sarà scritto di avere questi genitori che comunque alla fine cercano di contrastarla in tutto quello che le voleva fare mi collego a questa cosa è vista dall'altra parte come se come abbiamo visto un po prima come se lei dovesse essere salvata diciamo tra gli altri bimbi e quindi è come se avessero scelto questa famiglia un po per un po all'ultimo momento un po così diciamo di fretta un po di nascosto così perché la bambina doveva essere adottata e portata via dalla ok causa doterica della passione per le case di legno costruirle e piantare semi di alberi a me era venuto già prima quando lo diceva che come se lei volesse in qualche modo con la sua passione per l'architettura come se volesse costruire delle nuove case alle persone del tele favela nel villaggio in cui è nata come se fosse un riscatto in quel senso di se le volesse vivere vivere in una favela fatta però come si dice c'è una nuova casa di legna monica se anche mi è venuta così semi gli alberi le case vedevo tutto in prospettiva che poi lei disegnava e la creava si conferma anch'io quello che dicono loro ma in più è proprio un discorso di costruzione crea la sua creazione lei non ha non si è data l'opportunità o insomma in questa vita di e quindi rimane nel suo intento nella sua mente la sua creazione quindi creare il piantare e costruire e quindi è proprio una un desiderio represso come posso dire alimentato da quello che ha passato in questa vita ok brevemente gli incubi hanno una caratteristica in comune quella di fuggire fuggire nel bosco fuggire con l'auto la prendono l'acqua l'osso e il leone abduction e leone quello che ho visto prima su 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 che si nasconde questo leone qui c'è poi abduction e felinoide incidenti stradali e paura della velocità in auto falconi for falconi forme per bloccarla per fermarla anche incidente di tipo né dei limiti perché poi di di vini mettere in sesto perché come del lo vedo provocato sempre da lui da questo falconi forme perché è come se l'incidente sia in concomitanza con dei momenti suoi di voglia risponde le cammini stavo andando dal dentista in uno di questi e poi la tanti dovevano bloccare quella cosa disse lei poteva mangiare bene quindi energia prenderla acqua vibrazioni alte alte se cambiare le energie difficoltà nel lavoro non le capitano se per lavori che non vuole fare in sicurezza e forza di fiducia chiaramente tutta la situazione che abbiamo utilizzato fino adesso stato da un nonostante sia una persona combattiva un'anima combattiva comunque deve mettere delle basi cioè prima dei passi dentro di sé qual è il suo lavoro ideale dal ambiente che in cui vi trovate perché è tutto perché diretta e costruttore si è adesso un po tardi diciamo l'architetto un po tardi cinque anni di studio ok nell'ambito della costruzione va per esempio quei posti in cui si montano i mobili potrebbe essere un'idea visto che si montano che sta dentro aiutava dei bambini del mondo non so tipo ospedale tipo garden center ci sono le piante ci sono i semi sta inventando a non so io ho visto che la lavoratrice di mobili anche che il sistema dei mobili legno di pittura e da colori da se io vedevo più come monica invece che in un negozio la vedevo proprio più una cosa creativa nelle case la vedevo con appunto questi mobili nelle case mobili di legno nelle case os ok a causa della lentezza è tutto si è come se fosse legata a delle corte dietro che la tengono motività tanti traslochi non avere cambiamenti avere per avere anche ricetta virgolette cerca qualcosa che in realtà sa cosa ebbe comprendere no che in realtà la casa dove sei tu contesti sono le tuttora non è soddisfatto di quello che ha è proprio io leggo l'insoddisfazione in ecco come se ancora non ha capito cosa vuole con il suo centro io mi espongo lo faccio perdonami michela ma chi come michela a un matrimonio tra i figli e poi decide che le piacciono le donne è possibile che ci sia una confusione in questi termini se io vedo sì perché c'è una causa esoterica io vedo l'ho visto già prima questa cosa l'avevo già vista prima 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 questa proprio questo dicotomia no questa differenza come se le avesse prima come bisogno primordiale creare prole per sentire la famiglia che non ha mai avuto e poi seguire invece proprio la sua indole desiderio sui indire esatto di coppia di indole verso il femminile però la priorità era a creare il nido saprima sì vedo quello che dice sì figli vedo proprio come un mettere la bilancia equilibrio no ma mancanza con una cosa che creo io per arrivare avere questo equilibrio fino a che dopo che l'ha fatto perché poi uno raggiunge il suo obiettivo e lo percepisce ma in realtà non essendo il reale obiettivo all'interno del di se stessa poi a prima o poi lorci arrivi per forza perché ti ti richiamo c'è un richiamo verso quello che è dentro di te quindi comunque anche se ci arrivi vi darvi ci arrivi per forza fa parte di deponetta confermi se quello e poi io da prima vedo queste immagini non so se magari anche le altre sono collegare e capire che cosa potrebbe essere io vedo questo specchio grande e lei che si guarda e non si riconosce nell'immagine che vede vedo questa cosa quando era quando era sposata io vedo e poi invece si riconosce di più quando ha trovato la sua compagnia attuale c'è una normazione cioè nel senso lei come si è ha trovato quello ha seguito quello che il suo richiamo però non lo accetta quindi perché perché non della famiglia tradizionale lei non accetta se stessa se stesso fisico quindi che non accetta quello non ma il mentale come famiglia nel senso anche come quella la quella è la tua e la tua strada che tu hai scelto quindi perché di oppone andando addosso all'altra persona in realtà è come se fosse uno specchio uno specchio qua nel senso che rispecchia sull'altra persona delle cose che che lei deve affrontare in realtà ok numeri doppi che a volte non hanno nessun valore io ripeto non determinati sempre quando mi dici numeri li vedo sempre determinati momenti di passaggio sogni per monitori più o meno precisi alla capacità di non ho visto prima infatti l'avevo chiesto se lei si vedeva dal di fuori si stacca dal corpo perché comunque tutta questa situazione la sua anima comunque non c'è l'ha scelto lei ma c'è comunque c'è anche un rifiuto abbiamo analizzato già senza ripeterlo quindi come se si stacca si vede vuole vedere lei vuole conoscere non solo il suo passato qui che sta capendo che comunque ha importanza ma fino a un certo punto perché se guardiamo da più su stiamo non ha importanza così tanto no più importante la ricerca per cioè la ricerca dell'anima dell'evoluzione ma lei tutta questa situazione la fanno staccare quindi staccandosi anche all'interno lei si fa proprio dei viaggi cioè lei si staccano i sogni cioè quando si addormenta vedo proprio che va e vede delle cose si è assolutamente visto anche la sua capacità i litigi con la compagna ecco accetta lei deve prima accettarsi rete spaccia darà armonica con l'esterno ok in che modo a certo proposta che questa era la strada ha scelto do in arabico lei ma in realtà l'ha scelto due che in colpi ma è scritto questo in un contratto lì nel cluster quello che lei ha deciso di fare in questa vita c'è scritto c'è sabrina cosa c'è scritto che la e vedo come se fosse vedo questo contratto questo libro dove c'è scritto che per trovare la strada l'avrebbe trovata ma per però il prezzo da pagare era quello di contrastarsi e come arrivare a però non accettarlo quindi come se fosse un un contrasto presente non compresa se sente e mi viene questa parola non compresa da chi la circondano lei è come se secondo lei ce l'hanno con lei ma sono l'entità mentale comunque che gli mettono anche questi pensieri nella mente va bene è giunto oggi il momento di cambiare tutto se michela psp e lo vogliono fare vogliono farsi soltanto se 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 è gente nel momento di cambiare tutto questo ok partiamo con una pillola vick che ci dà la forza liberazione informazione consapevolezza ho un'ultima domanda prima di andare al cluster qual è il paese nel mondo in cui michela si sente più a casa sulla base di tutte le sue vite londra e terra il terra anche il terra ok molto bene quindi non è né l'italia nel brasile quindi questo da proprio ancora di più il il polso della relatività della situazione che lei sta vivendo esame rina sfortunata ma tu sei inglese se più inglese che che altro quindi se vogliamo se vogliamo quella magari potrebbe essere la sua strada o anche soltanto la possibilità devo al cluster io la vedo una cosa particolare ci porta al cluster sui dei pattini come se volesse sbrigarsi ma come se le piacesse patinare e non la vedo come grotta e all'interno di questa grotta c'è una luce che illumina tutti questi suoi fatti stanno lì e ci siamo arrivati pattinando cioè che lei ci è arrivata pattinando e come sono fatti i patti di legno sono dei libri con delle copertine di legno e aprendoli sono delle pagine come per pergamena tipo vergamena marroni chiari elena ho visto tipo un po come sabrina non era proprio una grotta vedo tipo una cupola no e ogni vita è una candela che può essere più grande o più piccola a seconda di quanti contratti a e vedo tutte le candele sparse sulla parete totale intorno monica il cluster è quello che ho visto lì all'inizio quando lei è venuta da bimba che da me si era fatta vedere bimba la cesta con dentro tutti le scatoline di fiammiferi quello è il suo cluster che si portava di dietro ok prima di togliere tutto chiediamo e michela vuole farlo siccome il concetto di specchio si è presentato in questa questa sessione apriamo un uno specchio una finestra e vediamo di fatto contemporaneamente anche l'avatar cosa fa adesso ancora senza aver optato per nessuna scelta nel cluster infatti lo vedo proprio tutto 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 che cerca di contrastare la nostra il nostro lavoro veemenza senza facciamo gli apparire sullo schermo sei sicuro che serva qualcosa questa scritta dice cipro ok adesso in inglese sei fottuto io ho fatto bene via tutti i contratti chieda lo fa lo vuole fare sì 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 lo sta già facendo l'aperto solita definitiva aperto il portale ha fatto accadere dentro questa cesta con tutte le scatoline di fiammiferi via ha fatto risucchiare il talagrotto ma si è levata anche anche i pattini ok l'aperto che non si è sentito avatar una tar via tuttavia la stanza libera ok fate creare a michela un ad eterno ma da lasciare nell'avatar e uno nel cluster ok nell'eterico e si sono ancora interferenze eteriche nel mentale mentali fa una pirouette su se stessa per farci vedere che è libero ok fatele creare un ad eterno nell'eterico e uno nel mentale andiamo nessuno emozionale dove c'era tanta rabbia ditemi se c'è ancora qualcosa di bassa frequenza e alla fine di tutto mettiamo anche una anche lì una d'eterno non è scomparso tutto ok il quarto corpo il fisico meno pausa precoce lasciamo una de terre o nel fisico di michela lee e genitali no come la vedete la situazione ma se ripartisse tutto il movimento però io vedo come se lei ha bisogno di che la sua circolazione del sangue venga rimessa in movimento perché parliamo sempre noi da qui a livello energetico ma siamo qui e quindi ci deve essere un equilibrio un lavoro su tutti i corpi quindi mentale fisico emozionale deve muoversi io vedo che c'è io la vedo sempre come all'inizio come una bambina sta facendo la ginnastica sta facendo sta muovendo sta saltellando fa così così salta la ginnastica di una volta nuova frequenza monica 20 miliardi elena 100 miliardi sabrina miliardi per centonelli di consapevolezza sabrina 150 150 150 ok io 105 111 psp psp 50 pare sono vite precedenti 1000 1000 di 10 985 più o meno 1000 cervello 5 per cento 7 nei prossimi nel prossimo mese 8 9 9 9 9 3 8 e mezzo 9 benissimo cosa si vuole dire e lasciare come messaggio finale michela chi vuole iniziare io vedo che dice dice senti il tuo corpo senti la fisicità come se dicesse per sentire che il corpo il tuo che è quello giusto che è quello con cui tu puoi vivere in armonia e serenamente senti lo proprio quello che le dice massaggiati spesso ma ti prendetene cura massaggiando ti è come se massaggiando si vede la dimensione del suo corpo quale che forma prende nella nello spazio quale qual è la competenza del suo corpo rispetto allo spazio esterno interno ho visto questa cosa quando a me dice c'era ps dice sentiti libera di amarti e di amare di essere completa completa nella marte nella mare e così dice sentiti libera sapriamo dice di smettere di consumare energie su cose che adesso abbiamo compreso che in fondo non sono così importanti la tua osservazione la tua il tuo focus adesso saranno su altre cose che servono per la tua evoluzione altrimenti per di tempo energia in cose dalla fine una volta che avuto le risposte comunque non cambiano la vita di adesso cambiano le situazioni di adesso invece spostare il focus su degli obiettivi la tua evoluzione possono cambiare quindi utilizzare due energie non nel dire nel passato e cercare di comprenderlo ma di proiettare di costruire creare il futuro vivendo il presente questo 10 ok siete d'accordo creiamo un ad eternum infinitum e lo lasciamo in ogni favela in ogni bidonville in ogni posto nel mondo in cui ci sono condizioni di forte disagio e grande necessità di acquisizione di consapevolezza e il primo che creiamo è quello del posto in cui da cui viene michela come la vedete rispetto alla meta come adesso adesso la vedo come come adesso la vedo cambiata e luminosa io qua la vedo con i capelli più lunghi la vedo ed è felice cioè le cose che le cresceranno se sempre avete col capelli più lunghi ed è più felice più serena ci sta ringraziando ha detto grazie si occuperà grazie per tutto si mette cura del di se stessa un paolo e un gli ho vista come proprio un allo specchio e magari di raucca io oggi faccio questo per me come dicevo anche alena primo percezione del ss e se sente rapido vedo che adesso ci ha preso tutti per mano tipo in un cerchio è iniziato a ballare insieme a noi sorridente tipo se quei balli country tipo è tutta allegra tutta che salta con questo cappello le trecce quindi capelli in mezzo a noi che cerca protezione adesso è esatto no ma prima di dirvi di tornare perché abbiamo finito volevo ringraziare monica questa è la sua ultima sessione spero sia una rivederci non un addio perché appunto deciso di interrompere spero momentaneamente ti ringraziamo grazie monica del viaggio vai piangi piangere devi piangere sgraziata e ca di tornare presto grazie va bene disconnettete da tutte voglia bene sgraziata figlio del genere e nipote disconnettetevi da tutte e tutti e noi torniamo siamo sempre registrazione ditemi quando siete pronte a posto a posto fatto conto da una 5 1 2 3 4 e 5 aprite gli occhi alla sera ciao c'era michel attiva pure il tuo microfono stiamo con registrando non diciamo cognomi non diciamo nomi diciamo nulla come stai cosa ci vuoi raccontare abbastanza pieno di informazioni di cui mi lasceranno mi hanno svuotato di tanti punti di domanda e quindi adesso mi sento più leggera e come diceva sabrina mi sembra di vestire le energie per altro bella mi sembra anche diversa no come come rispetto all'inizio volete raggiungere qualcosa di fuori comunque della situazione in cui vi trovate prima ragazze ma sicuramente io alla fine l'ho vista bella 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 era come se proprio si iniziava a prendere proprio cura di se stessa e iniziava un'evoluzione iniziava capelli lunghi io vedo come proprio la vedo come se adesso si rende conto che è lei c'è che non importa come dicevi tu lucio prima non importa tutto quello che c'è intorno sente che è lei che conta lei e la sua forza è in lei e quindi da adesso in poi sarà partirà da lei verso l'esterno e non dall'esterno verso di lei tutto quello che fa la sabrina che certe ovviamente certe domande che uno si fa per quello che insomma ci ha raccontato è normale da una parte però poi si arriva un certo punto evolutivo che se comprendi che non ha importanza più di tanto perché sono dei blocchi in realtà perché ti tengono in un lupo che che poi non rimane lì inizi e finisce lì invece nel momento in cui lasci andare come posso dire e comprendi che non ha poi così importanza per te stessa oggi allora puoi mettere le aline quindi puoi andare verso oltre quindi investire su di te comprendere più di te piuttosto che cercare cose che alla fine non disposte di cose che per la tua evoluzione di oggi non hanno più di tanto no mi chieda censuriamo il viso 1 si sembra che si considerando che ci si è che c'è anche quell'altro pezzo ne fai uno sia l'altro no diventa un po va bene dai va bene comunque mi associo anch'io sei così bella ma va bene lo stesso va bene finisco la registrazione grazie a tutti ciao monica ciao 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 a tutti e state ancora un attimo in linea